Ben ritrovati anche per la pagina sportiva del TG Noe che apriamo con il calcio dunque al Porta Elisa, Lucchese contro Perugia, partita attesissima per il debutto stagionale dei Rossoneri nella Serie C 23-24. Partita in programma in serata di cui vi proporremo naturalmente notizie e immagini nell'edizione notturne del TG Noe Sport. Rimaniamo in tema lucchese perché poche ore prima della partita del Porta Elisa conferenza stampa con l'amministratore delegato Reilo Faso e il giovane direttore sportivo Alessandro Frara. A poche ore dall'abbrivio del campionato e dalla sfida al Perugia, la sala stampa del Porta Elisa si è animata con una interessante conferenza suddivise realmente non solo in due parti. È stato l'amministratore delegato Reilo Faso ad introdurre due nuovi sponsor che compariranno sulle maglie della Lucchese. Si tratta dell'affida di Stefano Grassi, azienda leader nei servizi finanziari e creditizi. Grassi, capello lungo e occhiali e parso anche visibilmente emozionato, lui che ha un passato nelle giovanili rossonere e che è da sempre un grande tifoso della Pantera. Non è una novità assoluta invece l'apige di Davide Cavalli, particolarmente legato al gruppo Bulgarella, di cui è storico partner specializzato nelle ristrutturazioni verticali. Le maglie a far bella vista di sé e poi lo Faso che fa il punto su quanto operato in questi ultimi quattro mesi. Sono molto soddisfatto dell'operato della società, anche della squadra che ha lavorato dietro la scrivania. Oggi presentiamo uno stadio un po' diverso da quello che era lo scorso anno e di questo sono molto soddisfatto. La stessa cosa posso dire nella campagna acquisti, il lavoro fatto in squadra con Alessandro Frara, con Mangiarano e con il supporto e l'apporto di Andrea Bulgarella ci gratifica da questo punto di vista. La seconda parte più tecnica era legata al mercato, ribadito il criterio sulla scelta dei giocatori acquistati, la voglia di Lucchese, le motivazioni e il valore degli uomini. Sulle motivazioni e la voglia di venire a Lucca probabilmente è saltato lo scambio Rizzopinna-Zambataro con il Lecco. Frara avie più confermato che l'ingaggio in prestito di Filippi Eboada al Verona sancisce anche la chiusura del mercato, almeno per ora. Una lucchese che sogna e che può far sognare. In questi casi si dice anche voler recitare il ruolo di Mina Vagante. Sappiamo che il livello del campionato è altissimo, forse uno dei migliori campionati degli ultimi anni, abbiamo realtà che sulla carta sono superiori a noi. Noi vorremmo recitare la nostra parte dando fastidio alle altre, partita dopo partita, mettendo in campo grandi motivazioni e organizzazione. Passiamo al ciclismo, la bella stagione di Edoardo Cipollini non è passata inosservata. Il 18enne ciclista lucchese correrà il prossimo anno nella categoria Under-23 con la maglia del Team Colpac Ballan, società bergamasca di patron Beppe Colleoni e del direttore sportivo Antonio Bevilacqua. Cipollini Junior ha corso due anni, il secondo peraltro si deve ancora completare, tra gli juniors, prima con la Fosco Bessi di Calenzano e quest'anno con la Work Service. Ancora ciclismo, amore vita, estremamente lieta di congratularsi con il giovane talento francese Lenny Martinez per la sua straordinaria performance nella Vuelta a Spagna, dove ha conquistato la maglia rossa di leader della classifica generale. L'entusiasmo di patron Ivano è legato al fatto che il papà di Lenny Martinez, vediamo in questa foto Miguel Martinez, ha corso con la squadra di Ivano Fanini nel 2008. Tra l'altro Miguel Martinez è stato medaglia di bronza alle Olimpiadi di Atlanta, ora a Sydney 2000, tre titoli mondiali in mountain bike e uno nel ciclocross. Il successo di Lenny, ha detto Ivano Fanini, ci riempie d'orgoglio. Fin dai primi passi in bicicletta con la nostra maglia insieme a suo padre, Lenny ha dimostrato un talento innato. Tre anni fa, quando da junior lo seguì a vincere il Giro della Lugiana, dissi a Miguel che il figlio sarà il primo francese a rivincere il Tour de France e vedrete che non mi sbaglierò. Beh, aggiungiamo noi, chissà che Ivano Fanini ancora una volta non abbia ragione. Passiamo ai motori, dopo la pausa estiva e gli ottimi risultati ottenuti a fine luglio sul circuito di Misano. Filippo Bianchi è tornato in pista per il quinto round in questo weekend al Mugello. Le prove libere di giovedì e il turno di libere di venerdì mattina hanno permesso alla squadra Revo, nuova M2 Racing, di migliorare il setup della moto. Bianchi, nella qualifica 1 di venerdì pomeriggio, ha passato sensibilmente il tempo sul giro. È terzo alle spalle del leader della classifica Edoardo Colombi e del rumeno Jacopo Oshuk. Sarà la qualifica 2 di sabato a decidere le sorti della griglia di partenza. Alle 17.30, gara 1. Ricordiamo che nel campionato Bianchi ha un ritardo di 9 punti dal leader Colombi. Le parole di Filippo al termine della giornata di venerdì. Ringrazio tutto il team per il duro lavoro svolto in questi due giorni. Adesso, aggiunto, devo rimanere concentrato per la qualifica combinata. Sarà importante, ha concluso Filippo Bianchi, partire più avanti possibile per continuare a lottare in campionato. Certo è, aggiungiamo noi, che questa prova, questa doppia prova del Mugello, potrebbe essere davvero determinante. A proposito di giovani, a distanza di un mese dai campionati europei, il ciocco si accinge adesso ad ospitare la rassegna tricolore, sempre giovanile, di mountain bike. Si avvicina il doppio appuntamento per le ruote grasse giovanili con il campionato italiano Team Relais e il gran finale di Coppa Italia Cross Country nella cornice mozzafiato del ciocco, reduci dai campionati europei giovanili di agosto. Sabato 9 e domenica 10 settembre, esordienti allievi di primo e secondo anno si sfideranno sul circuito di 3 chilometri e con 140 metri di slivello, denso di ostacoli naturali, variazioni di pendenze e passaggi tecnici. L'attenzione dunque sarà tutta concentrata sul Colle di San Quirico, dove si assegneranno le maglie tricolori del Team Relais di sabato 9 settembre e quelle di Cross Country di domenica 10, quinta ed ultima tappa della Coppa Italia 2023. Nell'ultima tappa in Puglia, dominio al tatesino con il figlio d'arte Franz Paliuber, che ha vinto a braccia alzate tra gli allievi primo anno, mentre Fabio Ehrlich ha portato a casa l'argento tra gli allievi secondo anno, dietro al Veneto Filippo Cavezzan. Curiosità per scoprire i nomi dei convocati dei vari comitati regionali, a cominciare da quello toscano, ma intanto si sono fatte avanti e messe in evidenza le valdostane Sofia Guicardazza ed Elisa Giangrasso, le quali si sono messe in evidenza proprio durante i recenti campionati europei giovanili, sempre al ciocco. Da segnalare anche la piemontese Sofia Campi, campionessa regionale ciclocross 2023. Lo scorso anno la Coppa Italia giovanile premiò per la prima volta nella storia il Comitato del Veneto, capace di battere per un soffio la fortissima e strafavorita Lombardia, con il Trentino a salire sul terzo gradino del podio. Quali comitati festeggeranno sul prestigioso podio del ciocco quest'anno? E a quale squadra andrà il titolo tricolore nella prova Tim Relais? Le puntuali e inappellabili risposte le avremo al ciocco e dal ciocco fra una settimana, sabato 9 e domenica 10 settembre, quando vedremo in azione la meglio gioventù della mountain bike italiana. E con la mountain bike al ciocco si chiude anche la pagina sportiva del Ticino, un'altra breve pausa pubblicitaria e poi torniamo tra poco con la terza ed ultima parte del nostro telegiornale. Grazie.